Ho una tale ammirazione e stima per il lavoro di Elsa Morante che in cima non prova quasi non meno a mirusurarsi però ho cercato di essere veramente fedele, profondamente e quindi a raccontare tutto lo spessero delle nozioni. Fantastico, un grande lavoro nella fotografia, scenografia, costumi qual è stato l'elemento irrinunciabile di tutti questi asset? Tutto, un film è fatto di tutto, il regista deve essere il direttore d'orchestra di una banda di collaboratori geniali che ho vinto. Abbiamo lavorato in modo molto intenso, proficuo, ci siamo preparati tantissimo il trucco, il parchiere, tutte le piccole cose, la mia ossessione è il dettaglio e quindi ho supervisionato qualsiasi cosa che andava davanti alla marca.